Anchiudo proprio in questo momento perché non possiamo fare niente, ci appoggiamo tutta l'Odi. Vediamo niente. Altrimenti non venivo assolutamente. Se sapevamo uscivamo subito e andavamo. Abbiamo visto tutte le stile inferniere con le mascherine, cosa sia successo, non lo so. Direttiva è arrivata adesso. Ho sospeso tutto, chiudono tutto perché non fanno più nessun esame, niente. È anche giusto. Adesso andiamo a vedere l'Odi. Quando c'era posto l'Odi ho detto siccome che devo andare via ancora, ho detto provi a Codogno. Allora siamo venuti a che destino? A Codogno si fa una lastra. Sperando che vada bene.